You better watch out, you better not cry, you better not fall, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. È già il quarto anno che la Lilt con il liceo delle scienze umane Olga Fiorini porta in ospedale un po' di allegria con i canti di Natale. Quest'anno siamo stati in tantissimi reparti, praticamente quattro giorni intensi. Dall'ospis alla cardiologia, dalla pediatria alla ginecologia fino al pronto soccorso. Sono stati davvero molteplici reparti dell'ospedale di Bustarsizio dove è risuonata la voce degli studenti del quarto e quinto anno impegnati nel progetto spettacolo del liceo delle scienze umane. Coordinati dalle docenti Giussi Consoli, Marilena Garufi e Marika Nicora, gli studenti hanno proposti classici di Natale per portare in musica un po' di gioia là dove spesso ce n'è più bisogno. Grazie. Grazie. Grazie.